Buonasera, sono Laura Antichi. Andremo ora a creare in OpenSIM dei pannelli multimediali. Innanzitutto creiamo i pannelli. Clicco con il destro del mouse sul suolo, crea. Creo un cubo Allargo il cubo delle dimensioni che credo opportune. Vediamo quanto è venuto un po' tanto, troppo alto. Ok. Lo allargo anche un po'. Perfetto. Ora, dopo magari lo allargo, lo allungo ancora un po'. Si. Lo allarghiamo, allunghiamo anzi un po'. Poi lo schiaccio in maniera tale che mi vada proprio a rappresentare un pannello. Poi lo ruoto, visto com'è situato, un pochino. Lo ingrandisco un altro po'. Ok. E ora vado a crearmi altri pannelli su cui faremo poi le nostre prove. Quindi ho selezionato il pannello. Con lo shift creo un altro pannello che vado a posizionare in un altro posto. Un po' davanti e dietro. Mi sposto. Anzi, lo butto tutto indietro che è meglio. Quindi lo vado ad allineare con l'altro. Lo sposto. Così sono due pannelli abbastanza vicini. Poi, sempre con lo shift, duplico, mi è andato fuori, anche questo pannello. Ok. Lo riduplico. Mi sposto leggermente con lo shift. Ok. E quindi ho realizzato i miei tre pannelli su cui andrò a inserire poi dei multimedia. Tiro in avanti questo, un po' in avanti, perché la struttura è questa. E ora vado a lavorare sui pannelli. Sul primo pannello metterò un video YouTube. Quindi vado in modifica. Mi alzo la finestra del modifica. Scrivo il nome, quindi video YouTube. Posso dare una descrizione. Do anche i permessi di copiare, di modificare e copiare al gruppo. E poi vado in texture. E in texture do luminosità massima per vedere poi più chiaramente il contenuto del pannello. In materiali. Clicco sul media. Scegli. Mi dice che ho selezionato più facce. Quindi annullo e vado a selezionare la faccia giustamente in fronte. Quindi vado in scegli. E qui metterò l'URL del video YouTube in colla. Spunto anche zoom automatico. Lascio spuntato riproduzione multimediale automatica. Poi la nota. I residenti possono annullare questa impostazione. Messa in scala automatica dell'elemento multimediale sulla faccia dell'oggetto. Poi in personalizza nelle impostazioni dei media. Lascio tutto i controlli standard. Importante andare in sicurezza. E spuntare. Permetti l'accesso solo ai modelli di URL specificati. Quindi faccio applica. Ok. In questo modo, come vedete, ho già applicato il mio video YouTube applicato. Quindi posso. Quindi chiudo la finestra. Ho dato, come vedete, tutti i parametri esatti. Ho dato i permessi. e posso poi andare a ingrandire il mio video. Posso anche ingrandirlo da qui. E scontare il mio video in diretta. Questo per quanto riguarda il video YouTube. Ora andremo a poi creare gli altri pannelli. Naturalmente dopo girerò un attimo questo pannello che è un po' ruotato. Vado in modifica. In modifica con il control. Poi andrò a ruotare il pannello. Vedete che è leggermente. Quindi modifica. Ok. Control. Vado a raddrizzare il pannello perché abbia dimensioni all'arte. Quindi questo è fatto. Allestiamo ora il secondo pannello con un sito. Quindi vado in modifica sul secondo pannello. Seleziono. Seleziono faccia. Questa. Clicco sulla faccia. Quindi anteriore. Vado in texture. Materiali. Prima clicco su luminosità massima. Poi vado in materiali. Media. Scegli. Metto il nome della media. In questo caso è un sito. Control V. Clicco su spunto anche zoom automatico. Come ho fatto prima. Lasciando quelli già spuntati. Riproduzione multimediale automatica. Poi la messa in scala automatica dell'elemento multimediale. Faccia dell'oggetto. Poi vado in personalizza e lascio tutti i controlli spuntati. E in sicurezza. Spunto. Bisogna ricordarsi di spuntare. Permetti l'accesso sui modelli di URL specificati. Quindi vado in applica. Ok. E quindi anche questo pannello è stato creato. Posso naturalmente ingrandirlo andando qui sul più. Avrei potuto farlo anche un po' più grande. Come vedete perfettamente navigabile. Quindi mi porta nelle varie parti del sito. Poi vado naturalmente o clicco qui che è la home. Oppure in alto su home e mi riporta la home. Anche questo è un po' da raddrizzare. Quindi vado in sempre modifica. Con il control. Cliccando sul pannello. Lo aggiusto. In maniera. tale che sia perfettamente allineato. Questo quindi per quanto riguarda un sito. Sul terzo pannello. Stessa procedura. Andrò a inserire qui un worklet sugli script. Che riguarda il nostro corso. Quindi vado in modifica. Seleziono la faccia. Seleziono la faccia anteriore. Questa. Vado a dare luminosità massima. Vado in materiali. Scelgo media. Scegli il media. E metto l'indirizzo che ho condiviso per il mio worklet. Poi vado a spuntare zoom automatico. Lascio riproduzione multimediale degli altri che avevo lasciato. Personalizza. Pure lascio tutte le spunte. In sicurezza vado a spuntare. Permetti l'accesso solo ai modelli URL specificati. E vado in applica. Ok. Ok. E anche questo è fatto. Quindi. Adesso dovrebbe ecco compare. Molto interessante che nella schermata quindi iniziale c'è aggiungi il tuo nome. Perché il worklet che avevo condiviso era unlisted. Cioè non era nella lista pubblica. E quindi sì. Ho aperto i collaboratori per coloro che hanno il link del sito. del sito. Quindi qui la persona al posto di Anonymous. Vado a ingrandirlo un po'. Di Anonymous. Metterà il suo nome. Quindi basta mettere questo. Aggiungi. Ed ecco che. E. E. Qui compare il worklet. E dice. Inizia. Clicca qui per modificare. Le persone che sono state invitate. con questo link. Possono modificare. Ok. Fatto. Facciamo ok. Fatto. Comunque. Le persone che hanno questo link. Possono anche andare a modificare. Il worklet che ho condiviso. Con. Con un link. Da dare soltanto. Alle persone che voglio. Che collaborino con il mio worklet. Questo è tutto. Quindi noi che cosa abbiamo visto. Che è possibile creare. Con molta semplicità. Dei pannelli. Multimediali. Che. Delle lavagne. Multimediali. Queste saranno. Molto utili. Nell'ambito. Proprio. Della didattica. Andiamo ora. A verificare. Se abbiamo nominato. Le lavagne. Che abbiamo messo. E. Se abbiamo dato i permessi. Sulla prima lavagna. Clicco con il destro. Vado in. Modifica. E quindi. In generale. La lavagna. È stata nominata. Video YouTube. I permessi. Sono stati attribuiti. Al gruppo. Chiunque. Copia. Il proprietario. Successivo. Ho lasciato. Che può. Modificare. Copiare. E trasferisci. Questo è a posto. Vediamo ora. La. L'altra. Lavagna. Con il sito. Vado in. Modifica. E. Questa. Lavagna. Scriverò. Il nome. Quindi. Multimedia. Sito. Vado. Poi. Ad. Attribuire. Al gruppo. La. Chiunque. Copia. Può. Copiarla. Proprietario. Successivo. Do. Tutti. I permessi. Modificare. Copiare. E. Anche. Questa. E' fatta. Ora. Vado. All'ultima. Lavagna. Quella. Che. Aveva. A. Walklet. Qui. Avevo. inserito. Walklet. Sempre. Vado. Modifica. E. Qui. Scriverò. Lavagna. Multimediale. Collaborativa. Perché. Coloro. Che. A. Poi. Collegano. La. Lavagna. Possono. Apportare. delle. Modifiche. Ok. Vado. Condividere. Con. Il gruppo. Poi. Chiunque. Copia. E. Il proprietario. Successivo. Modificare. Copiare. Trasferisci. Quindi. Dato. Attribuito. Tutti. I. Permessi. Così. Ho. Preparato. Le mie. Lavagne. Che possono. Essere. Utili. Nella. Didattica. Signa. Sumói. Sorry. Teşekküravamovi. Grazie a tutti.